Ci troviamo a Taranto, presso i giardini caduti delle Forze dell'Ordine, via Alemagna Grecia, all'altezza di via Lago di Viverone. Un bel polmone verde con una stranezza, con un pugno allo stomaco. Da un lato dei resti di palme completamente morte e a fianco dei ficus che sono stati piantumati quando invece si potevano tranquillamente piantumare questi ficus al posto delle palme. È un fatto estetico che non è solo un fatto di apparenza. Ne parliamo con il dottor Francesco Pasculli, agronomo. I ficus che noi ritroviamo qui in questo giardinestro sono stati svelliti da Alemagna Grecia a seguito dei lavori per la pista ciclabile. Sono stati svelliti perché l'apparato ipogeo risulta essere molto invadente e quindi rompe il marciapiede. È stato quindi opportuno la scelta dell'amministrazione di toglierli dalla via Alemagna Grecia e poterli ripiantumare in aree limitrofe. C'è un piccolo problema però che questi ficus che sono stati in realtà svelliti e che ritroviamo qui con gli ancoraggi sarebbero stati dovuti mettere in maniera organica al posto delle palme morte attaccate dal punteruolo rosso. Queste palme, come potete ben vedere, oltre ad essere un grosso pericolo per le palme che noi stiamo curando per le nostre palme secolari, di fatti sono sicuramente non belle a vedersi. Quindi possiamo notare come l'amministrazione in questo caso non abbia agito in maniera razionale, ovvero eliminare le palme morte e piantumarci il ficus e rivede quello che si chiama tecnicamente un verde pronto. In questo caso noi abbiamo dei ficus che sono ammassati nel giardino in maniera assolutamente insensata senza un disegno e le palme morte che possono tranquillamente attaccare ancora le nostre palme secolari. Beh, quando io dico che questa amministrazione si caratterizza appunto per un dilettantismo amministrativo, credo di non sbagliarvi e questa è la prova evidente. Grazie a tutti.